Il problema delle donne, molto sentito alle Olimpiadi precedenti, qua assume un'altra angolazione. Perché le americane sono molto, molto disinibite. Le loro atlete, che hanno quasi sempre una provenienza europea, siamo soltanto al 1932, sono super, sono molto mascoline e sono straordinarie. Si comincia a discutere di una concezione femminista dello sport, molto anticipata rispetto ai tempi. Ovvero sia l'Europa è restia, gli americani non si fanno problemi. Un giornalista del New York Times sostiene con una curata ricerca scientifica che le grandi atlete hanno addirittura più facilità rispetto alle loro coetane a filiare. Mentre si riteneva che il feto fosse messo in difficoltà da un passato atletico. Ma sono ovviamente le concezioni dell'epoca. E a supporto di tutto questo arriva Babe. E Babe, secondo me, è le Olimpiadi di Los Angeles. Babe è Babe Dikrinsen, che però diventa Dikrinson negli Stati Uniti. L'origine è norvegese. Questa è The Lady. Altezza 1,60. Caratteristiche, fenomeno. Fenomeno totale. È la sesta figlia di una famiglia a sette. I primi tre fattorelli sono nati in Norvegia. Questa è inspiegabile. È All-American di basket, baseball, softball, ottima al bowling, pattinatrice e grande tuffatrice. Pure. Vince due ore un argento in tutte le altre discipline, tranne queste. Un fenomeno. In atletica leggera. Una roba incredibile. Quindi lei sostanzialmente vi dice, amiche, io rappresento il nuovo mondo. Cioè, un atleta come me è più facile che nascano gli Stati Uniti? Probabilmente sì. I tedeschi vedono tutto questo e alle Olimpiadi del 36 dicono, no, 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 anche noi genereremo delle atlete di questo livello, riuscendoci. Ma Babe, probabilmente, è quella che fa girare la percezione sulle atlete. Fino adesso erano molto amate le tenniste e le golfiste, molto femminili, molto tecniche e vestite come piaceva Papa Pio. Lei sport, però. Lei è in pantaloncini. È l'animale, nel vero senso della parola. È onnisport e non basta, perché finita la sua carriera atletica, è cantante di alto livello, incide un disco che spopola. Se me lo trovi, mi fai un grande favore. Ci tenteremo. I felt a little teardrop. Ho sentito una piccola lacrima. Lato B, detour, deviazione, che spopola. Come lato B. Come lato B del parente americano del tempo. Ma va bene. E non so quante altezine. Poi dice, bello sto gioco. Mi metto a giocare golf e diventa la prima al mondo. Nel frattempo prosegue col vaudeville e gioca per soldi professionista, come lo spaccone a biliardo. Anche contro gli uomini. Nel celebre film con la coppia Tracy Hebborn, Pat and Mike, dove secondo me Pat, interpretata dalla Hebborn, nota atea e probabilmente lesbica, è ispirato secondo me a lei, che tra l'altro ha una piccola parte, fa un cammeo. Quindi anche attrice. Anche attrice, quello senza problemi. Ma no, il personaggio della Hebborn, bellissima, disinibita, liberata, che colpisce l'immaginario europeo, molto più probabile dall'altra parte dell'oceano, è soprattutto una che non aveva problemi a dichiarare quello che pensava. Padrona dello schermo, perfettamente. Cioè, sulle sue preferenze sessuali non so, ma che cosa ci interessa. È l'impatto della donna. Io credo che ci sia molto legame. Non a caso Babe viene fatta vedere all'interno del film. La storia di Babe termina per un tumore al colon. Ha vissuto circa 45 anni, ma è stata recentemente indotta, come fu Jim Thorpe, di cui abbiamo parlato ad altre Olimpiadi, nella Hall of Fame della storia dello sport. È probabilmente la più grande sportiva di tutti i tempi. E non poteva che succedere a Los Angeles, dove comunque gli americani mandano un messaggio al resto del mondo, e le donne sono una parte importante. Vi abbiamo parlato di Babe Idrickson, perché lei veramente le ha segnate. Vi ricordo che le sue medaglie sono negli ostacoli e nel giavellotto. Tra l'altro, lei arrivò seconda nel salto in alto e fu squalificata per la sua tecnica. All'epoca dovevano passare prima ai piedi della testa, e lei faceva intuffo oltre la sticella. E i giudici dissero, oh no, sinceramente non funziona. Oggi quel salto sarebbe legale. È incredibile, ma venne squalificata su quel salto. Cioè il ventrale. Il ventrale, e mantenne quindi la medaglia d'argento con un salto precedente, che aveva fatto con una tecnica consigliata o accettata. Allora...